Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere i problemi dell'Easy Anti-Cheat su Fortnite quindi ragazzi vi auguro una buona visione su questo tutorial e noi ragazzi ci vediamo dopo la intro Prima di cominciare ragazzi vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanina e di lasciare un like per i prossimi tutorial iniziamo prima ad andare nel gioco quindi di Fortnite Games e non sai dov'è la cartella di Fortnite vai sui tre puntini di Fortnite che sta su Epic Games vai su gestisci e qui c'è la cartella qui apri il percorso di installazione andiamo nella cartella Fortnite Games, Binarys, qui in 64 e come puoi vedere qui c'è la cartella dell'Easy Anti-Cheat e qui ci sono le quattro applicazioni quindi che fare? andiamo nella cartella dell'Easy Anti-Cheat, clicchiamo su Setup di Easy Anti-Cheat e fate disinstalla una volta disinstallato l'Easy Anti-Cheat chiudete qua ritornate indietro cancellate questa cartella elimina scendiamo fino a giù selezionate tutti questi quattro applicazioni questi qua, quindi fate Cancella chiudete tutto chiudete un attimo Epic Games quindi riaprite Epic Games Launcher eccolo qua e come puoi vedere qui c'è scritto Ripara e noi clicchiamo su Ripara Quindi riscaricherà così quelle quattro applicazioni di Fortnite più la cartella dell'Easy Anti-Cheat più aggiornata e stai certo che Fortnite andrà di sicuro Ok, abbiamo fatto la riparazione di Fortnite e state certi che Fortnite andrà di sicuro quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi iscrivetevi al canale attivate la campanella e allora ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao